Musica Speciale di Senz'Appello, oggi siamo alla Comunità Ormina con il Sindaco Cadeno De Luca, nonché leader del movimento politico Sud Chiama Nord. Sindaco, cominciamo a parlare un po' della situazione del Comune di Taormina, da quando lei è stato eletto la situazione economica era abbastanza critica, diciamo che con alcuni suoi interventi adesso le cose sono un po' migliorate, vediamo di capire come, anche perché Taormina è la cittadina della Sicilia con il più alto numero di turisti tutto l'anno, quindi è impensabile che un comune come Taormina possa soffrire di crisi economica. Beh, Taormina è la Sicilia in piccolo, come dico sempre, nell'attesa di diventare il Sindaco di Sicilia mi tengo in allenamento con una comunità importante come Taormina, era un comune in dissesto, perché è stato dichiarato in dissesto tre anni fa, qui abbiamo applicato una ricetta che già avevamo avuto modo di applicare a Messina, Messina è stato il salva Messina, qui salva Taormina, approvato il 31 di luglio scorso, che ci ha consentito di ricavare quelle risorse indispensabili per chiudere il dissesto, quindi abbiamo dato tutte le risorse alla Commissione Ministeriale, si stanno chiudendo le ultime transazioni e credo che entro luglio Taormina uscirà dal dissesto. Taormina ha una delle forse delle opere più belle in assoluto di tutto il mondo, che è il teatro antico, sappiamo che ci sono dei problemi per quanto riguarda l'utilizzo del teatro antico, anche perché il comune di Taormina, essendo tra virgolette il proprietario del sito, veniva ogni volta penalizzato quando si organizzavano gli spettacoli, cosa posso in essere lei in questo periodo? Lì mi sono rivolto all'onorevole Cateno De Luca, parlamentare di lungo corso e ha fatto una legge che ha da questo punto di vista reso giustizia non solo al comune di Taormina, ma a tutti i comuni dove ci sono dei siti archeologici di questa valenza e quindi con la cosiddetta legge De Luca il comune di Taormina, per fare un esempio, incasserà circa 600 mila Euro l'anno per quanto riguarda la quota sullo sbigliettamento ordinario, più è stata fatta un'integrazione che riguarda l'organizzazione dei grandi eventi e quindi avrà una quota a parte degli introdi anche per quanto riguarda i grandi eventi e si arriverà a circa un milione di Euro l'anno. Quello che avrà Taormina, infatti le dovute proporzioni, li avranno altre città importanti come Siracusa, Grigento, Selinunte, perché è ovvio che l'onorevole De Luca quando fa le leggi le fa per tutta la Sicilia e quindi si è anche sbloccato quella che era un'anomalia di essere ospita a casa propria. In questa legge abbiamo anche previsto che 5 serate al mese devono essere di esclusiva competenza del comune di Taormina, infatti abbiamo iniziato la nostra programmazione con un avviso, mettendo già a bando le nostre serate all'interno del Teatro Antico e finalmente si apre anche una stagione di programmazione di grandi eventi che avrà inizio a tutti gli effetti l'1 maggio con la festa del mare perché già stiamo completando la pulizia di tutte le spiagge con l'attrezzatura per quanto riguarda i portatori di handicap, le docce e quindi si apre anche assolutamente. Il progetto aspettando la bandiera blu che allora il sindaco De Luca, il sindaco di Messina, lanciò pure a Messina. Un altro aspetto, quindi si risolve un problema se ne presenta un altro, emergenza idrica a Taormina. Nei giorni scorsi lei ha firmato una convenzione con AMAM e con Sicilia Acque proprio perché sembrava un assurdo che Taormina dovesse ricevere dell'acqua col contagocce quando in effetti le condutture che ci sono qui permettevano ben altra portata. Quindi cerchiamo di capire in che cosa è stata finalizzata la convenzione e come il comune di Taormina risolverà quest'altro problema. Tecnicamente si chiama vettoriamento nel senso che ci sono delle condotte che passano a livelli diversi e paradossalmente Taormina riceveva 5 litri d'acqua secondo in estate dall'AMAM prendendolo ovviamente dalla condotta dell'AMAM, cioè comunque che arrivava già a Messina. Ora invece la prendiamo dalla condotta direttamente da Sicilia Acque che compensa sulla condotta dell'AMAM. Quindi il risultato finale? Messina non ha più bisogno di cedere 5 litri d'acqua che già da 20 anni c'era e li recupererà per la città, guadagnerà perché questo vettoriamento è un servizio che noi paghiamo dall'AMAM e quindi guadagnare circa 100 mila Euro l'anno e noi possiamo arrivare a una portata di 80 litri secondo che è l'effettiva necessità che c'è anche e soprattutto nel periodo estivo. Ma la posso fare una provocazione? Lei durante la conferenza stampa ha detto che quello che diceva prima l'acqua, i famosi 5 litri secondo eccetera eccetera, servivano solo per riempire qualche serbatoio e poi ha parlato di piscine abusiva. Qualche piscina abusiva, nel senso che sappiamo che c'è un'ordinanza che vieta che le piscine vengano riempite con quelle che è l'acqua proveniente dal civico, dal servizio civico ma ovviamente questo non veniva rispettato. Ora ci stiamo organizzando per bene anche su questo, però pur se non riusciamo a beccarli tutti, comunque oggi col quantitativo che stiamo mettendo in rete anche quelli che sono queste pessime abitudini non metteranno a viso più quello che in ogni caso è il servizio idrico. A proposito di emergenza idrica, la Sicilia, intanto il prefetto ha inserito Messina fra le 6 città siciliane che avranno dei problemi per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, ma a prescindere da questo l'emergenza idrica di tutta la Sicilia è evidente, lei intanto conferma è stato licenziato Leonardo Santoro o no? Lo stanno tenendo ancora a bagnomare come si suol dire, so che le discussioni sono state pesanti e che l'ologramma Schifani si è molto incazzato, ma è inutile da questo punto di vista incavolarsi perché… A proposito appunto, perché c'era un'idea, una proposta di Cateno di Luca che poi adesso è fatta propria da Leonardo Santoro per risolvere quantomeno, dico non totalmente, ma buona parte dei problemi dici siciliani. Noi durante la legge di stabilità avevamo detto più volte a Schifani prima di decidere di regalare i soldi a Matteo Verdini per il ponte sullo stretto di Messina che era necessario fare la ricognizione delle urgenze della Sicilia in tutti i settori, in particolare naturalmente per quanto riguarda acqua e rifiuti, sull'acqua Leonardo Santoro che di fatto è il commissario per l'emergenza idrica e quindi ha fatto il suo dovere e lo ringrazio per questo, ha fatto una ricognizione puntuale che solo per quanto riguarda la messa in sicurezza e la rifunzionalizzazione degli invasi e delle reti che servono all'agricoltura ci vogliono circa 700 milioni di Euro, a questo bisogna aggiungere che ci vogliono almeno 500-600 milioni per potenziare e risolvere alcune criticità che come per esempio la città di Messina oggi risolte in parte, ma che richiede ancora almeno altri 50 milioni di Euro di finanziamenti, perché noi abbiamo fatto progetti per 80 milioni di Euro, ne abbiamo avuti finanziati quasi per 35-40, ma ancora all'appello mancano 50 milioni di Euro per avere l'acqua H24, siamo una media di 18 e di conseguenza il tema qual è in termini definitivi? Che Schifani non ha i soldi per dare la copertura finanziaria a queste urgenze? Ed ecco che ora torniamo indietro a quelle che sono state le nostre accuse che abbiamo fatto durante la legge di stabilità, dicendo che ha chiamato la legge di stabilità siciliana avulsa dal contesto socio-economico della regione siciliana. Esatto, perché? Perché ovviamente non ha tenuto conto di quelle che sono le urgenze e soprattutto è stata completamente piegata ai voleri della politica romana e di conseguenza 2 miliardi di Euro, 2 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione che servono per le emergenze di cui abbiamo parlato, sono state destinate per questa scelleratezza del mondo. Ponte sullo stretto. Ci torno al Ponte sullo stretto, ma prima una domanda sui rifiuti. Emergenza idrica da una parte e emergenza rifiuti dall'altra parte. Messina è vicina al 67% per quanto riguarda la raccolta differenziata, Fanarino di Coda, Palermo e Catania. Si parla di termovalorizzatori, ma c'è bisogno di termovalorizzatori se invece basta puntare a ottenere degli standard di raccolta differenziata similari, uguali a quelli di Messina? Mi verrebbe da esclamare, scherzando che avrebbe bisogno di un sindaco come Cateno De Luca, perché d'altronde Messina era peggio di Palermo e Catania per quanto riguarda la raccolta differenziata, ma abbiamo preso di petto, abbiamo amministrato il problema, abbiamo messo in piede una società di cui siamo orgogliosi. Diventata la seconda società economica di Messina dopo la Caronte? Assolutamente sì, ma perché ha fatto bene e sta portando bene la propria missione avanti, quindi siamo orgogliosi noi del sistema delle partecipate messinesi che stanno producendo servizi di alta qualità. Il termovalorizzatore è un affare, è un affare perché viene realizzato in questo momento anche con una potenziale dimensione sproporzionata che sanno tutti che ovviamente è esagerata e perché nell'umido non si può portare all'interno dei termovalorizzatori e quindi è ovvio che è fatta per far diventare una pattumiera, la Sicilia, una pattumiera d'Italia, ecco qual è il vero disegno criminale al quale ovviamente noi ci opponiamo. Un'operazione simile la si farà con i dissalatori perché Schifani vuole fare in parallelo la stessa operazione che sta facendo con i termovalorizzatori. Che poi i dissalatori servirebbero più che altro per l'irrigazione perché c'è un processo chimico particolare che renderebbe l'acqua al massimo, ma anche per le pelli sensibili no, per quello che potrebbe essere un uso comunque non potabile. E poi un orevole delubre, il problema dello smaltimento dei rifiuti, cioè tutta la parte salina che viene fuori dai dissalatori deve essere smaltita e torniamo a principio di prima. Ci siamo capiti, ci siamo capiti, ma questa d'altronde quando noi parliamo di una visione menesosa, ho sempre la responsabilità, aspetto sempre le querele, di una visione politico mafiosa delle risorse pubbliche, intendiamo questo, non parliamo a bambera, qua c'è questa ormai logica che vede i servizi pubblici essenziali privatizzati e di conseguenza anche le risorse pubbliche sono ormai finalizzate al potenziamento di queste lobby. ovviamente pensiamo che Schifani non arriverà a mettere in piedi comunque in atto questi disegni criminosi e di conseguenza siamo infatti pronti anche ad affrontare quest'altra campagna elettorale. A proposito di questo andiamo al ponte sullo stretto adesso, tutta la strategia politica regionale, lei per alcuni aspetti l'ha sempre definita politico mafiosa, qualcuno dice che lei fino a qualche un anno fa, due anni fa era a favore della realizzazione del ponte sullo stretto, per alcuni rappresenta uno sviluppo economico e turistico per tutta la Sicilia, per altri può essere un grosso problema. Adesso viene fuori che alcuni cittadini messinesi si sono trovati inseriti nell'elenco degli espropri, senza che nessuno mai avesse ipotizzato che a Ceppe, nella zona nord di Messina, potessero nascere questi famosi cantieri, cantieri che un anno, due anni, parliamo 15, 20 anni e cosa faranno i cittadini messinesi in tutto questo e qual è adesso l'idea di Catena o De Luzio? Io sono sempre stato per il corridoio Berlino-Palermo, abbiamo fatto le battaglie nel 2006, quindi parliamo di quasi 20 anni fa, che prevedeva il finanziamento dell'alta velocità da Salerno a Villa San Giovanni, il potenziamento dei due porti Augusta e Gioia Tauro e la sostituzione della monorotaia dei Borboni che orgogliosamente ancora abbiamo in Sicilia e il ponte sullo stretto di Messina, quindi una strategia complessiva con il cofinanziamento dell'Unione Europea, ma questa è stata la battaglia che abbiamo fatto nel 2006, oggi a distanza di 20 anni ci troviamo con un altro tipo di strategia, il ponte di Matteo Verdini, cioè di un'opera avulsa da questo contesto del corridoio Berlino-Palermo, avulsa dai finanziamenti per quanto riguarda tutto ciò che attiene al ponte sullo stretto di Messina, quindi ad alta velocità e quant'altro e soprattutto con una contestualizzazione urbana che riguarda la città di Messina che è totalmente scollegata da ciò che si è verificato in questi anni, ma non solo, dalla carenza anche di quello che è il vero impatto che ha sulla città, perché chi rientra nell'elenco degli espropri già è fortunato, chi non rientra il problema ma si trova a fianco magari a chi è stato espropriato, gli effetti del cantiere in quel caso subisce senza alcun ristoro e qui la questione ne ho parlato anche già col sindaco Basile, ho detto di verificare se c'è lo studio complessivo dell'impatto dell'opera del cantiere, quindi prima che dell'opera del cantiere, che va al di là naturalmente della delimitazione degli espropri e questo documento pare che manchi, in questi giorni comunque si arriverà a un nodo definitivo. Lei mettendosi adesso dalla parte degli espropriati, non sapendo, in effetti inizia oggi, il buon Matteo Salvini ha detto che entro dieci anni vedremo questa meravigliosa opera sul ponte sullo stretto, ma per tutti questi dieci anni quale sarà il danno secondo lei che subirà la città di Messina? Guardi, io non voglio essere ora un profeta che possa preannunciare gli orizzonti delle cose negative, ma da un lato vi dico che l'unico interesse è riuscire ad affidare la progettazione definitiva dell'opera che tanto rispetto alle prescrizioni che stanno emergendo è già chiaro che non si realizzerà mai, ma questo significa anche però aver consentito probabilmente ad intere classi politiche di aver approfittato di quest'operazione fino alla settima generazione. Dall'altro lato dico che all'orizzonte c'è una scadenza elettorale importante, che sono elezioni europee e che vedranno sicuramente un nuovo scenario senza Matteo Verdini, perché nell'ambito della Lega che avrà una sconfitta e subito una sconfitta storica, è ovvio che cambieranno definitivamente, per questo già Bossi nell'occasione del 40 anni della fondazione della Lega lo ha detto chiaramente, si libereranno definitivamente. E ci ha tentato di avere Bossi con lei, no? Ma io con Bossi ci dialogo, ci siamo visti, siamo visti col figlio e lui mi apprezza, mi apprezza perché sa… Però poi ci torniamo, poi ci torniamo, vorrei portare un discorso un attimo sulla meritocrazia perché lei ha sempre definito la certa gestione dei Presidenti regionali, appunto l'ha detto anche prima, politico mafiosa. Abbiamo assistito nei mesi scorsi al balletto della nomine dei direttori nelle strutture sanitarie, nelle aziende sanitarie. È stata secondo lei la vittoria del manuale Cencelli o la sconfitta della meritocrazia? Noi abbiamo il sospetto, fondato sospetto che ci sono figure all'interno che non hanno neanche titoli, un esempio a caso, non c'è stato modo ancora di verificarli, tale Perdinando Croce, il cognome ricorrente, ma non solo lui. È ovvio che ognuno di loro fa parte di una cricca politica. E quindi che ci sia la meritocrazia di mezzo, credo che sia difficile sostenerlo. Ed è questo il vero dramma perché soprattutto nella sanità, dove la gestione è di circa 10 miliardi di Euro l'anno e dove si sconta la maggiore arretratezza per quello che è proprio il livello di civiltà dei servizi pubblici, continuare ancora vedendo i vari Cuffaro che ti spuntano alle 8 di mattina in Parlamento perché c'è la Commissione che deve dare il parere sulle nomine che viene a cercare di condizionare politicamente tutto e tutti. È ovvio che è una questione che ti indigna. Quindi stiamo andando avanti purtroppo con lo stile della banda Bassotti e di conseguenza con quello che in ogni caso è la visione politico-mafiosa della gestione delle risorse pubbliche. Anche perché in Sicilia la sanità ha veramente delle eccellenze, ma ridotta come ridotta, è trattata così come è trattata, si era parlato subito dopo la pandemia, all'aiuto ai medici, al personale infermieristico di qua e di là, ma concretamente a cosa è arrivato? Le eccellenze le scopriamo sempre e poi in altri territori perché fino a quando sono qui possibilmente le lasciano nel sottoscala, poi le lasciano qui nel sottoscala perché non si allinea politicamente, scopriamo in altri territori che sono delle eccellenze perché lì prevale il merito. Ecco qual è la questione. Ce ne sono qui in Sicilia? Sì. Taormina ne è un esempio per quanto riguarda il centro di cardiocirurgia pediatrica per esempio che sta portando grande imbarazzo alla sanità siciliana in alcuni ambienti perché i servizi e le prestazioni che vengono rese eroicamente a Taormina sono i più elevati in Italia, quindi non parliamo soltanto qui della Sicilia, quindi un punto di eccellenza che sta creando imbarazzo a chi invece già ha ipotizzato una operazione in parallelo a Palermo e si fa davanti per ora di proroga, che in proroga si sta come si dice tecnicamente c'è un babbio in corso. Anche perché ancora sono commissari, non sono direttori, non sono stati... Al di là di questo lì è una volontà politica di natura diversa, cioè di far riconoscere anche alla regione Calabria che non può avere il centro di eccellenza per quanto riguarda la cardiocirurgia pediatrica, Taormina come già ne è fatta avviene, quante famiglie Calabria. Lei che ne pensa del Polivinico e del Mediterraneo? Ma allora io penso che oggi andare a creare duplicati, avendo anche carenze di base comunque su quelli che sono i servizi essenziali è un problema. In linea di principio ovviamente non sono contrario a strutture che soprattutto in territori come Traenne e Caltanissetta, perché quest'ora si tratta, dove le carenze sanitarie si scontano anche un problema di distanze, è ovvio che da questo punto di vista non sono contrario e non mi sono manifestato contrario, però quello che dico non è pensabile, facendo un esempio pratico del Policlinico di Messina che ancora lì siamo a caro amico per quanto riguarda il pronto soccorso. E quindi è ovvio che pur comprendendo le necessità dell'entroterra non posso accettare però che si miri a questi grandi progetti e nel frattempo si perde di vista quella che è l'ordinarietà che poi può fare la differenza anche in termini di qualità e anche per salvare di domani. Prima di passare alla pubblicità e poi tratteremo tutto l'aspetto delle elezioni europee, l'ultima domanda riguarda, lei ha fatto accenno a Cuffaro, una piccola diatriba, chiamiamolo così a livello regionale, lei Davide Basta ha perso del ricorso per quanto riguarda la elezione perché non si era dimesso dall'incarico che ricopriva, è subentrato Salvatore Giuffrida che era in lista con lei, ma amico personale dell'assessore regionale al bilancio, Marco Falcone e quando Salvatore Giuffrida ha detto no, io lascio De Luca e vado con Falcone. Come l'ha presa lei? Beh, poi ha cambiato idea perché è andato con Cuffaro. Con Cuffaro, no, prima con Falcone perché era amico personale di Falcone. Il personaggio è quello che io non mi sono neanche sentito di replicare perché ovviamente uno che si è dimenticato, perché nella sua dichiarazione che ha fatto, ha detto io non è venuto in campagna elettorale, non mi ha mai sostenuto, quando io sono stato nel suo comune, ci sono anche le foto della torta che mi è stata fatta, abbiamo inaugurato il comitato, abbiamo fatto il comizio nel suo comune, probabilmente l'avrà dimenticato, anche i suoi acciacchi, ma al di là di questo noi già lo sappiamo che la materia attrattiva nell'ambito dei parlamenti noi non siamo attrezzati per questo e quindi la nobiltà delle scelte di certi personaggi è ovviamente legata a quella che appunto sono attrezzature che noi non abbiamo. Allora siamo tornati qui dalla comunità urmina con il sindaco Cateno De Luca, nonché lidere del movimento Sud e Chiama Nord e a proposito di politica, prima di vedere un po' quello che Cateno De Luca ha pensato di presentare per le elezioni europee, una domanda che lo riguarda personalmente come lidere, come amico di tante persone che hanno condiviso con lei il progetto, hanno sposato il progetto di Sud e Chiama Nord, ma l'hanno abbandonato. Allora, ha determinati personaggi che hanno raggiunto anche degli importanti incarichi pubblici, cosa ha da dire Cateno De Luca? Rispondiamo semplicemente con quel proverbio storico che l'ingratitudine umana è più grande della misericordia di Dio, altro non posso aggiungere perché è ovvio che abbiamo preso degli attivisti o attiviste che erano magari in altro ambito, non avevano avuto buone fortuna in politica, le abbiamo accolte, le abbiamo anche accompagnate a percorsi di crescita, poi si sono ubriacate o si sono vendicate perché magari non sono state designate magari a ruolo di sindaco di Messina, è umano anche questo, sono anche rischi del mestiere che si mettono in conto, fanno male. Ma non avevano già da prima che lavorare con Cateno De Luca rappresentava anche questo. Ma possibilmente a un certo punto ci si autoconvince magari che oltre ad essere bravi sia la credibilità perché io a differenza di Cuffaro non controllo voti, non mi sono mai permesso di dire che controllo voti, io lo lasciamo a Cuffaro e al suo linguaggio. Parliamo invece di aver assunto la credibilità di poter magari essere votato da migliaia di persone e io a queste che magari sono cresciuti con me auguro che ora in queste competizioni per le europee magari scendano in campo per verificare se almeno prenderanno un voto in più rispetto a quando sono stati candidati con noi, cose che io auguro perché vuol dire che avranno imparato bene il mestiere. E andiamo alle elezioni europee, le election day non ci saranno solo le europee ma quello che interessa di più a noi sono queste, vent'anni dal 2004, prima candidatura di Cateno De Luca in una lista vicina alla democrazia cristiana, paese nuovo. Diciamo che per il periodo per chi ancora non conosceva Cateno De Luca è stato un ottimo risultato considerato il numero di voti che è riuscito a prendere. Adesso Cateno De Luca presenta Libertà, parafrasando un po' la canzone di Sergio Andrico, Libertà e partecipazione. 19 movimenti che hanno deciso di partecipare al progetto De Luca, perché? Vedo che ha studiato. Sì, è un po' cosina. A tante è sfuggita la mia candidatura del 2004, allora con l'ex ministro Enzo Scotti che ho avuto il piacere di conoscere e sono sempre personaggi che hanno qualcosa sempre da insegnarti. E allora mi trovai a collaborare con lui e con il sindaco di Roma, nonché ministro delle partecipazioni statali, Clelio Darida. Oggi siamo riusciti a creare una brand che non solo rappresenta un messaggio contro questo sistema e contro questa Unione Liberticida, Unione Europea Liberticida, infatti il comune denominatore che ci fa stare assieme è meno Europa più Italia, meno Europa più sovranità, meno Europa più equità. Ma siamo anche riusciti a fare un progetto che sta imbarazzando le altre forze politiche, le quali si nascondono, si vergognano dei loro candidati o meglio di candidati che rappresentano certi mondi politici e quindi non li mettono in chiaro sui simboli. E questo infatti ha creato qualche problema all'interno per esempio di questa lista di scopo, che è una definizione esotica, non si capisce cosa significa, che comunque registra il fallimento di Renzi col suo centro e quindi l'aver dovuto rinunciare a quel progetto e consegnarsi sostanzialmente a un'altra idea. Ma secondo Cateno De Luca, considerato gli schieramenti che adesso andremo a vedere per l'Europa, perché sappiamo il centrodestra quello che farà, il centrosinistra non si capisce ancora, il Movimento 5 Stelle, PD con tutte le beghe interne che hanno, dove si colloca Cateno De Luca, da chi pensa di poter ricevere non voti tanto per, ma consenso per un progetto, perché il passaggio da Fiume di Nise a Bruxelles potrebbe essere, sembrare lunghissimo, ma può essere anche molto breve. a questa domanda c'è una risposta, la risposta è esattamente quel consenso che Cateno De Luca ha ricevuto già alle regionali, quasi il 26%, siamo al primo partito in Sicilia, a Messina per ben due volte, quando abbiamo vinto contro tutti. Cosa significa questo? Che c'è un non elettorato intanto, di gente che non va a votare e che riguardo a competizione dove è sceso in campo direttamente Cateno De Luca è andato a votare e sono stati percentuali importanti ed è ovvio che mi rivolgo a quel 50% che non va a votare alle europee, oggi potete votare per un progetto che è contro questo sistema e se De Luca oggi deve essere definito o lo definiscono antisistema, sono orgoglioso. Ma sto sbarramento del 4% perché in Italia ancora? Orgoglioso perché per completare il ragionamento ovviamente questo sistema è quello che realmente sta facendo saltare il sistema Italia e sta alimentando questa Europa liberticita. In quest'ottica in Italia c'è un'oligarchia che utilizza questi strumenti per rimanere tale ed ha toccato l'altro elemento, il 4% di sbarramento non esiste in nessuno Stato d'Europa, ma non solo, ma anche quasi l'1% dell'elettorato che ti va a sottoscrivere la presentazione delle liste, solo per presentarmi, non esiste in nessuna parte d'Europa. Qui in Italia tutto questo esiste perché? Perché è ovvio che c'è il sistema che spinge a far disinnamorare la gente della politica. Quindi Cateno di Luca potrebbe essere quella qui di in più per scardinare questi sistemi. Lo è stato già, lo ha dimostrato a Messina, lo ha dimostrato alle regionali e ora lo dimostrerà alle europee. Sia chiaro anche perché più aumenta l'astenzionismo, più aumenta il peso specifico dei voti controllati dal sistema. Quindi quando voi per dispetto non andate a votare per dispetto non a me, ma al sistema, guardate che siete i complici più eccellenti del sistema. Non ve ne rendete conto, ma è così. Il mio primo appello intanto è mi rivolgo a tutti coloro che non vanno a votare. Andate a votare e date una spallata a questo sistema. Poi sotto il profilo della coloritura ideologica tutti sanno che io sono uno pragmatico, sono un amministratore. C'è chi mi dice che vuoi vedere di destra, chi di sinistra, chi di centro. Se guardate la mia amministrazione, il mio modo di amministrare, non c'è assolutamente un colore che può essere affibbiato al mio modo di amministrare. Faccio alcuni nomi di quelli che sono inseriti nella lista libertà. Laura Castelli, ex sottosegretario dell'economia, Vincenzo Galizia, leader di un movimento ecologista, ma ce ne sono altri, Giulia Moi, ex europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Sarda, Piera Aiello, ex testimone di giustizia, che tra l'altro è stata la più eletta. Il capitano ultimo. Sergio Di Capio, capitano ultimo, che ha tolto il passamontagna proprio in occasione della presentazione della lista libertà. Pirozzi, sindaco di Amatrice, altri sindaci candidati. La nostra è una lista infatti che ha avuto la capacità di esprimere la sintesi di più mondi e soprattutto anche di più espressioni territoriali, perché prima impostazione, sud chiama e nord ha risposto. Sì, abbiamo. Siamo l'unica lista probabilmente all'europeo dove la parola nord esiste nel brand e dove la parola sud esiste nel brand. E mi permetto, questo è anche una questione di vezzo, tutto è partito da Sicilia vera e quindi sarà l'unica lista all'europeo che ha la Sicilia. E poi abbiamo le varie sensibilità, la legalità e noi siamo anche per l'agricoltura e quindi noi agricoltori. Posso fare una cattiveria che mi hanno suggerito alcuni? Avendo tutti questi movimenti, il record in assoluto, prima avevano avuto gli autonomisti ne avevano solo 9 liste, adesso Catena di Luca ne ha 19, ha battuto anche gli autonomisti, ma una volta che Catena di Luca riuscirà a superare lo speramento del 4%, Catena di Luca andrà a sedere a Bruxelles con libertà e tutti quelli che hanno sposato il progetto Catena di Luca cosa si aspettano da Catena di Luca? Beh, intanto sono diventati tutti grandi in un colpo, perché la differenza tra me e gli altri, io non costringo gli altri a candidarsi nella nostra lista e quindi a non avere legittimazione politica. Ogni simbolo di questo con il superamento del 4% potrà accedere al 2 per 1000, quindi al nuovo finanziamento, al nuovo sistema di finanziamento dei partiti e avere l'estensione delle firme. Domani saranno miei competitor, ma l'obiettivo è quello di disseminare di democrazia questa oligarchia. Ecco qual è il vantaggio di tutti quanti, perché è ovvio che se io rimango solo contro il sistema, già hanno tentato di ammazzarmi più volte e prima o poi mi centreranno in un colpo, allora mi devo attrezzare. Ma Catena di Luca, seduta a Bruxelles, può far cambiare questo sistema siciliano, questo sistema italiano? Può veramente far capire alle persone che per andare avanti, sempre parafrasando, partecipazione è un elemento che deve investire tutti i cittadini, non c'è una stanza del potere e poi tutti gli altri sono servi sciocchi. Dicono di Catena di Luca che è un elefante nella cristalleria, quando entra nei palazzi, è vero, non sono passati in osservato. Dove ho amministrato ho lasciato il segno tangibile di cosa è la buona amministrazione, ho effettivamente rotto tutto e ricomposto secondo la logica di buona amministrazione. Non è che io cambio il mio atteggiamento perché mi ritroverò eventualmente a Bruxelles, fermo restando, che oggi io sono candidato in tutta Italia perché devo creare una squadra a Bruxelles di uomini e donne libere. Non ha importanza a chi io ci arrivi, personalmente se ci arrivo non è detto che rimanga lì, perché il mio sogno è quello di fare. il sindaco di Sicilia. Ai suoi detrattori come ultima domanda, ai suoi detrattori, a quelli che dicono che Catena di Luca è così estemporaneo ma poi rientra nei ranghi, qual è il messaggio che lei vuole dare anche in previsione del fatto che si andrà a votare per cambiare un sistema, per cambiare un modo di fare che lei ha definito meno Europa, più sovranità, più autonomia, più Italia. La libertà di portare ad essere felici, voi siete degli infelici, perché chi è il servo sciocco del sistema è ovvio che poi deve prendere il malox. Questo è il tema, io non ho timore di queste grandi sfide, lo faccio poi con grande serenità, con grande amore e finora ogni poltrona che io ho avuto modo di servire l'ho fatto semplicemente col voto popolare, non me l'ha regalata nessuno. Quindi significa che ho ricambiato sempre la fiducia che ho avuto. Questo mi rende libero, ho detto solo un padrone, il popolo. Fino a quando avrò credibilità agli occhi del popolo, io potrò fare politica da uomo libero. Quando questo rapporto verrà meno, allora io non farò più politica, perché il mio carattere mi impedisce di fare il punto nelle mani dei popoli. Ma certo, dove continuo ad abitare, anzi ho tante cose che devo fare, che dico con molta onestà e onestamente ho 52 anni. Se considerate da dove sono partito, con quelle che sono le mie umili origini, oggi potrei dire che sono felice già così, ma io devo completare la mia missione, che è quella di liberare la Sicilia da questo sistema politico mafioso e quindi impedire che i giovani a un certo punto se ne vadano in continuazione dalla nostra terra. Anche qui abbiamo bisogno che tornino, perché abbiamo formato delle persone valide, ma... Ma quello è l'investimento peggiore che noi stiamo facendo per ora, perché formare un giovane costa mantenerlo a scuola, dopodiché quando abbiamo finito l'investimento il giovane è costretto a salutarci e ad andarsene e quindi continuiamo ad arricchire indirettamente il nord o l'estero, oggi ancora. Grazie a Cadeno De Luga per questo speciale di Senza Appello. Grazie a voi. Grazie a tutti.